In un ambiente acusticamente non trattato, dove tutte le superfici sono rivestite con materiali perfettamente lisci, il suono tende a riflettersi in numerevoli volte, creando quell'effetto che conosciamo come riverbe. Viceversa, introducendo un materiale fonoassorbente come questo, le riflessioni sono dissipate, smorzate e ne guadagniamo in qualità del suono e comfort ambientale. Sentiamo la differenza. La qualità acustica è uno degli aspetti da curare con particolare attenzione durante la progettazione degli ambienti. Questo perché da essa dipende al comfort che le persone che andranno a utilizzare e che vivranno in tale ambiente saranno in grado di percepire. Essa dipende dalla geometria dell'ambiente stesso, ma anche dal tipo di materiali, dalla quantità e dalla disposizione nello spazio degli stessi. Non è inusuale trovarsi all'interno di ambienti e immersi in un'atmosfera così densa di rumori da non riuscire nemmeno a comunicare con chi ci sta di fronte. Si pensi ai ristoranti, alle scuole, agli uffici. Per scongiurare situazioni di questo tipo e garantire un'acustica ottimale, il parametro principale da controllare è il tempo di riverberazione e questo può essere fatto con sistemi fonoassorbenti come foracusti. Sentiamo ora le opinioni di coloro che hanno già utilizzato i sistemi fonoassorbenti foracusti fantoni. L'architettura dell'università è cambiata molto, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione dell'innovazione tecnologica e dei sistemi di insegnamento. Richiede necessariamente spazi fluidi, senza partizioni verticali opache e con grande permeabilità tra l'interno e l'esterno. In questo senso cercavo un prodotto che potesse coniugare la pil formale del rivestimento dei volumi interni con le necessarie caratteristiche tecniche di un abbattimento acustico, di un ambiente che doveva accogliere un grande numero di persone particolarmente vivaci. Dopo una lunga ricerca, insieme agli ingegneri che mi affiancavano nel progetto, siamo riusciti a trovare un ottimo compromesso tra le mie esigenze formali e estetiche, cioè quelle di avere una sorta di tessuto morbido, caldo e cromaticamente variabile su ogni volume dell'interno, insieme a delle caratteristiche tecniche con alto abbattimento acustico. In questo senso siamo riusciti a declinare quello che era l'abaco del catalogo di Foracoustic con delle personalizzazioni che rispondevano perfettamente le mie esigenze formali. Il campus è fatto di ampi spazi con diverse destinazioni d'uso, con diversi livelli di privacy. Andiamo dalla biblioteca per 300 persone, dove evidentemente il livello di silenzio deve essere molto alto, ad ambienti più comunitari come una mensa ai 500 posti e una hall multifunzionale per feste, concerti e mostre. In tutti questi ambienti devo dire che il Foracoustic ha performato tecnicamente bene ed è diventato anche in qualche modo a livello estetico il light motive a livello di finitura di tutte le università, cambiando in maniera un po' camaleontica, visto che abbiamo utilizzato tre colori diversi, la propria pelle a seconda delle destinazioni d'uso. Temachinio ha una fortissima identità che la rende unica sia di brand che di prodotto, ha valorizzato negli anni e ha affermato sia in Italia che all'estero una cucina nippo-brasiliana che il cliente percepisce con un rapporto prezzo-qualità eccellente. Il cliente percepisce anche l'immagine, la freschezza del marchio, la bellezza dei ristoranti, dei locali e questo negli anni, adesso siamo al settimo, l'ha reso una formula di successo. Temachinio ha a cuore il comfort dei clienti, va bene la qualità del cibo, va bene la qualità del servizio, ma ritengo sia fondamentale anche la qualità dell'acustica all'interno di un ristorante. Noi adottiamo i sistemi di fondo assorbenza non soltanto perché facciamo musica dal vivo o DJ set, ma per regalare un'esperienza unica al cliente. Il brusio, il rumore, il sottofondo non gradito, per noi è un'esperienza da dimenticare. E nel dover scegliere tra i sistemi di fondo assorbenza abbiamo scelto l'eccellenza che per noi è Fantoni, in particolare i materiali duttili foracoustic che ci permettono di abbinare la loro varietà dei colori alla nostra estetica, al nostro design e rendere ancora più belli i nostri ristoranti. Abbiamo adottato i sistemi foracoustic in tutte le nostre location, sia in Italia che all'estero, Milano, Roma, Londra e visti gli eccellenti risultati ottenuti, riscontrati in particolare dai nostri clienti, il progetto è quello di adottare questi sistemi anche in tutte le nostre altre location, sia in Italia che all'estero. Conosciamo alla perfezione il prodotto foracoustic di Fantoni, lo utilizziamo ormai da tempo in molti dei nostri progetti, noi ci occupiamo nello specifico di spazio ufficio, nei quali la performance acustica è fondamentale. Ci avvaliamo anche per questo di un team di esperti che suggeriscono in premis il prodotto Fantoni proprio per garantire un comfort acustico ottimale. Al di là della prestazione acustica del prodotto, foracoustic è sicuramente soddisfacente anche dal punto di vista estetico qualitativo. Si riescono quindi a coniugare gli aspetti prestazionali e funzionali con la qualità dell'ambiente. Tant'è vero che utilizziamo foracoustic negli ambienti anche più diversificati, più disparati da spazi lavorativi in cui è importante garantire un ambiente confortevole, in spazi di rappresentanza proprio perché si riesce a conciliare la perfezione e l'aspetto estetico con la parte prestazionale, per cui il prodotto Fantoni sicuramente risponde alle esigenze del tecnico, quindi in questo caso dell'architetto e del cliente. La versatilità del prodotto foracoustic ci ha permesso anche di customizzare il prodotto secondo le scelte, le esigenze architettoniche e funzionali. Nello specifico non l'abbiamo utilizzato quindi solo come elemento di rivestimento a parete, quindi la classica boiserie, ma anche come oggetto applicato a soffitto, quindi rispondendo sempre alla prestazione acustica è diventato un elemento estetico fortemente caratterizzante l'ambiente e quindi sicuramente in linea con le nostre aspettative.